In Sicilia, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, si registra una performance in peggioramento per i casi di Covid-19, attualmente positivi per 100.000 abitanti, 4.787 e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, 25,4% rispetto alla settimana precedente. Quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, dopo 5 settimane di calo e l'arresto della discesa la scorsa settimana, dice Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, si inverte nettamente la curva dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a quota 379.000 con un incremento del 35,9%, una media mobile a 7 giorni che sale da circa 40.000 casi dell'8 marzo ad oltre 54.000 il 15 marzo, più 30,3%. Un'inversione di tendenza che riconosce diverse cause, dal rilassamento della popolazione alla diffusione della più contagiosa variante Omicron BA2, dal calo della protezione vaccinale nei confronti dell'infezione alla persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica, 23,4%, mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva, 6,9% occupati da pazienti Covid-19. La popolazione siciliana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,3%, media dell'Italia 83,8%, a cui aggiungere un ulteriore 2,5%, media Italia 1,8%, solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 77,9%, media Italia 83,5%. Il tasso invece di copertura vaccinale con quarta dose è del 2%, media Italia 4,5%. Per quanto riguarda i bambini siciliani, fra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 25,8%, contro una media nazionale del 33%, a cui aggiungere un ulteriore 4%, media Italia 4,2%, solo con la prima dose.